Quello che si prepara per la sanità molisana è un autunno caldo. A far rullare i tamburi di guerra è il Forum per la tutela della sanità pubblica che ha passato tutta l'estate a riorganizzare le fila e ad allestire la propria Costituzione in forma giuridica. Un fatto necessario a contrastare atto per atto le azioni della regione, dice un battagliero Italo Testa, presidente del Forum. Tutto verte attorno alla fumisteria prevacanziera messa in circolazione dal presidente della regione commissaria d'acta Paolo Di Laura Frattura, quella di un piano prima approvando poi approvato e che alla fine dei salmi si è rivelato un documento in bilico come l'angelo del presepe. Un piano che non va né in cielo né in terra, che non è approvato né bocciato, insomma un documento che non è né osso né spina e che il presidente del Forum giudica al momento come fonte di atti illegali da contrastare nelle aule di giustizia. In estate non siamo stati presenti nel pubblico ma abbiamo lavorato nel privato. Tra le altre cose abbiamo operato per fare una scelta di questo genere, per avere le mani libere, per poter affrontare tutto ciò che vorrà fare adesso il governo, il commissario e l'assessorato alla sanità della regione molise, che vuole applicare il piano che non è stato ancora approvato, quindi noi dobbiamo essere pronti a poter agire anche per via giurisdizionale. Quindi non è stato approvato dal tavolo tecnico, specialmente per quello che riguarda la parte economica, la parte che riguarda il Ministero dell'Economia e non è stato approvato, se non in maniera molto condizionata, dalla conferenza Stato-Regioni. Quindi darlo per approvato è un modo, un eufemismo, non è stato approvato e non può essere applicato. Poi vedremo anche tutti gli altri motivi per cui non può essere applicato, però sicuramente non è stato approvato. Il vorrelo applicare oggi, nonostante non sia stato, è un fatto notevolmente grave da un punto di vista della correttezza amministrativa. Insomma, dietro ai simpatici baffi alla Ringo Star, Testa e il Forum nascondono denti ben affilati per attaccarsi ai pantaloni di fratture soci, come nella migliore tradizione operaista e movimentista, area culturale dalla quale molti del Forum provengono. La stagione che si avvicina sarà una stagione di lotta senza quartiere e c'è da giurare che in autunno, oltre alle foglie, voleranno anche le carte bollate per arginare una deriva disegnata, voluta e organizzata per demolire la sanità pubblica e favorire quella privata. A ben vedere l'insidia maggiore per il Cardarelli, simbolo della sanità pubblica, non è infatti il terremoto come strumentalmente si vorrebbe far credere, ma la politica. In circolazione ci sono facce che fanno più danni di un cataglisma.